Musica Nel post terremoto erano nate come funghi per rimediare ad un'emergenza, quella abitativa, per la quale il comune dell'Aquila aveva approvato una delibera, l'ormai celeberima delibera 58, quella che consentiva ai cittadini insomma di realizzare abitazioni provvisorie, le famose casette di legno, anche su terreni non edificabili per avere un tetto ed abbandonare alberghi e tendopoli. Ne sorsero a migliaia sull'intero territorio comunale, molte anche su terreni dove, al di là dell'emergenza, non si sarebbe potuto costruire per elevato rischio e sondazioni, ricadenti in quella che tecnicamente viene definita zona P4. E saranno proprio quelle, per lo più localizzate nella zona ovest della città, a dover essere smantellate dopo l'opera di ricognizione effettuata a sette anni dal sisma dai vigili urbani del nucleo di polizia edilizia, sul mandato del vice sindaco Nicola Trifuoggi. Ai numerosi proprietari sono stati notificati gli atti di sgombero e demolizione dei manufatti, realizzati in palese violazione delle norme urbanistiche, fatto che in realtà era già avvenuto nel 2011, quando un'ordinanza del sindaco Cialente aveva disposto alla rimozione delle abitazioni costruite in zona P4. Un'ordinanza in effetti mai presa in considerazione. Adesso invece, dal comune è stato adottato il pugno di ferro e già nei prossimi giorni inizieranno le demolizioni, per lo più concentrate nella zona ovest, come detto. Ai cittadini è stato notificato l'atto di presa di possesso degli immobili per la successiva demolizione, anche se sono esenti dal provvedimento coloro che hanno la casa inagibile e coloro i quali hanno costruito sulle aree bianche purché abbiano presentato domanda di sanatoria. Una decisione che susciterà forti proteste e malumori, ma che, almeno fino a questo momento, sembra irrevocabile. L'Aquila Contemporanea Plurale è la prima edizione di un festival di cultura contemporanea che nasce dalla sinergia di sei importanti enti musicali e dell'alta formazione che hanno sede all'Aquila e che vogliono insieme svolgere un ruolo importante per la ricostruzione della città. Questo è l'intento con cui l'Associazione I Solisti Aquilani, l'Istituzione Sinfonica Abruzzese, la Società Aquilana dei Concerti Baratelli, l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio Casella e l'Università dell'Aquila nel settimo anniversario del sisma, hanno dato vita alla rete interdisciplinare Contemporanea Plurale è l'Aquila. Finalmente riprendiamo un po' quelle che sono state le tradizioni di questa città di quando, cioè già dagli anni 60, le maggiori istituzioni culturali e di alta formazione si mettono intorno a un tavolo per organizzare delle manifestazioni che sono poi passate alla storia. Il festival, prima espressione del lavoro della rete, prevede concerti, incontri, installazioni e performance e fa convergere sulla città la presenza di numerosi musicisti, artisti, intellettuali della scena artistica internazionale. Per cinque giorni, dal 4 giugno, l'Aquila si presenta come un centro di cultura contemporanea e innovazione artistica. E subito iniziano i concerti, due al giorno, tranne che la domenica 5 è l'ultimo giorno che c'è solo un concerto, ma due al giorno, pomeriggio e sera, con la partecipazione di importantissimi personaggi compositori ma anche, effettivamente, allo stesso tempo, responsabili della cultura del nostro tempo. Perché noi cominciamo con Ivan Fedele, il 4 pomeriggio, del quale seguiamo una prima italiana e quindi per noi è un titolo d'orgoglio con la nostra sinfonica abruzzese. Ivan Fedele non soltanto è uno dei più premiati, scusate, dei compositori maggiormente premiati oggi, ma è anche direttore della Biennale Musica di Venezia. Verrà Matteo D'Amico, direttore artistico della filarmonica romana. Verrà Michele Dalongaro, presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Avremo un collegamento con Nicola Sani, sovrintendente del Teatro di Bologna. E poi saranno presenti gruppi e musicisti tra i più rappresentativi nell'ambito della musica d'oggi. Rimini aveva avuto qualche azione per far gol, ma ripeto, anche noi abbiamo avuto due occasioni. Forse un rigore che poteva starci, l'arbi ha detto la presa di testa, quindi se avessimo sbloccato il risultato magari la partita sarebbe andata in un altro modo, purtroppo ci sta. Io posso dire quello che riguarda me, io sono ammareggiato, mortificato, non ho parole per esprimere il dispiacere che sento dentro, soprattutto per la gente, per la città, sono parole sincere, quindi che vi devo dire? Forse è un po' affrettato, ma se la sentirebbe eventualmente di ripartire anche dalla Serie D, visto che lo scorso anno se ne era parlato, se non si fosse poi materializzato? Adesso questi discorsi non è il momento, come quando si sta a un funerale, si piange, chi ha il coraggio anche di piangere, ci si interroga, magari per crescere, per cercare dagli errori di imparare per il futuro, senza andare a pensare al futuro, a quello che sarà. Adesso facciamo un esame di coscienza e basta. La retrocessione dell'Aquila Calcio in Serie D, dopo la sconfitta nei play-out con il Rimini, pone l'ultimo tassello su un'annata che, sportivamente parlando, è stato un vero e proprio incubo, forse tra le peggiori che la città ricordi, sicuramente la più nera del post-terremoto. Al fallimento dei Rosso Blu si somma quello dell'Aquila Regmi, scese in eccellenza dopo una stagione perennemente trascorsa in fondo alla classifica, senza dimenticare un altro unafragio, quello della Miternina Calcio, che torna in eccellenza dopo la parentesi in Serie D. Il tutto in una città ed in un territorio dove, a differenza di altre realtà, il denaro che, che se ne dica, gira è anche parecchio, grazie ai cantieri della ricostruzione, con imprese ed imprenditori, che pure hanno provato ad investire nello sport. Investendo male, evidentemente, se i risultati sono quelli appena registrati negli sport di punta del capoluogo, mentre in quelli cosiddetti minori, dal basket al pattinaggio, soprattutto nei settori giovanili, qualche soddisfazione è arrivata. Il tutto mentre ormai ad un passo dal completamento lo stadio di Acqua Santa, che molti sognavano di inaugurare con il prossimo campionato di Lega Pro, e che invece ospiterà i match di quella che una volta si chiamava quarta serie, un vero peccato. In molti in questi giorni si sono scatenati sui social network, con proteste, analisi e commenti, compresi quello del sindaco, che ha parlato, riferendosi alla retrocessione dell'Aquila Calcio, di errori, di debolezze, di sottovalutazioni e spesso anche di solitudine di chi era la guida del suo dalizio. È necessario, spiegato il sindaco, sia per il calcio che per il rugby, di lineare i percorsi, stendere progetti a breve e a medio termine, partendo dalle risorse umane e finanziarie disponibili, e ricorrendo a professionalità certe e corrette. Professionalità, è forse questa la parola chiave per rilanciare lo sport, al di là della retorica dell'Aquila che vuole tornare a volare, in una città dove gli spazi di aggregazione sono sempre meno e dove anche una semplice partita rappresenta un momento di serenità per trascendere da una realtà ancora fatta dei cantieri e una città alla ricerca di se stessa. Grazie.